Gli schimpanzé sono i nostri parenti più prossimi. Il nostro DNA differisce dal loro solo dell'1,2%. Sono estremamente intelligenti e altamente emotivi. Possono superare i 60 anni di vita, attraversando fasi simili alle nostre. Angogo, ogni scimpanzé è unico. Ha personalità e obiettivi, tutti suoi. Per questo gli scienziati hanno dato a ciascun esemplare un nome. Grazie. 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 Grazie a tutti.